Il 7 luglio ci sarà la Gran Fondo Fabio Casartelli a Forlì, è una Gran Fondo particolare, non è agonistica, è un modo per ricordare un campione olimpico. Io purtroppo non sarò presente perché sono impegnato alla Tour de France, ma voi dovete esserci perché avrete la possibilità di vivere una giornata particolare nel ricordo di Fabio Casartelli qui a Forlì, prima edizione, non potete mancare. Grazie a tutti.